Sottoli coltivati con il metodo dell'agricoltura biologica, miele, cioccolata e caffè lazzarelle prodotto dalle detenute del carcere di Pozzuoli. E' un cesto natalizio particolare, quello realizzato dal Comitato Don Peppe Diana, che per il secondo anno consecutivo organizza l'iniziativa Facciamo un pacco alla Camorra. Un'occasione per promuovere la cultura della legalità e della partecipazione. La confezione contiene infatti tutti i prodotti coltivati dalle cooperative di Aversa, Casal di Principe e Sessa Aurunca nelle terre confiscate ai clan. Ed acquistandola si può contribuire allo sviluppo di un'economia alternativa a quella camorristica in grado di restituire dignità e lavoro ai soggetti più deboli. Abbiamo un segno importante in un territorio riconosciuto come terre di Camorra. Oggi incominciamo a parlare delle terre di Dondiana, terre di bellezza, di possibilità e di riscatto per i giovani di quel territorio partendo appunto dagli ultimi, da quelli che in qualche maniera hanno deciso di riutilizzare i beni confiscati e questi sono i risultati. Si può fare un piccolo gesto solidale e comprare un prodotto che è stato realizzato sui beni confiscati e quindi a Natale fare un regalo intelligente. L'iniziativa è il risultato di un progetto che mira il riuso produttivo e sociale dei beni sottratti alla Camorra e rappresenta un'occasione di riscatto fortemente condivisa da studenti, associazioni e rappresentanti istituzionali. I prodotti sono contenuti in una borsa realizzata nel design e nei materiali dalla cooperativa sociale Altri Orizzonti che ha allestito una sartoria in una struttura confiscata. La violenza va a scemare una volta che il bene viene consegnato. Ciò che a noi interessa invece è poterlo riconsegnare perché sia utile e dia dignità alle persone che lo vanno ad abitare.